Bene, buongiorno a tutti, ci troviamo a Succinto, frazione di traversella, abbiamo queste tre campane, come vedete intanto la seconda campana è stata bloccata, non si può suonare a distesa, ecco grazie, bloccata, molto utile, ma soprattutto la campana grande, guardate, è senza il motore, non c'è proprio, l'avranno rubato, oppure è stata un'altra delle speculazioni, ai posteri largo a sentenza, forse l'unica campana che si salva è la piccola, ma come potete vedere, tada, hanno messo gli elettrobattenti, uno, due e tre, a 1164 metri d'altezza si trovano queste situazioni, per il momento è tutto.